Nuova grande prestazione per il rugby, Lucca che nell'ultima gara di regular season batte in trasserta con un netto 33-3 il Mugello Rugby. La squadra di mister Giovannico ha però dovuto faticare più di quanto il punteggio non dica per avere la meglio sulla squadra fiorentina. Lucca segna subito grazie ad una bella azione dei tre quarti che mandano in meta Marconi. Sembra il prologo ad una gara senza storia, invece i locali si dimostrano un osso molto duro, con un'ottima organizzazione di gioco che priva Lucca del possesso del pallone per buona parte della prima frazione. Solo al termine del primo tempo gli ospiti riescono ad allungare grazie ad una meta fotocopia segnata sempre da Marconi. Nella ripresa Lucca entra decisa a chiudere il match e dimostra la propria superiorità sia in mischia che nella tre quarti. Capitan Addabbo e compagni segnano altre tre mete con Lombardi, Serafini e Carignani che appunto valgono il 33-3 finale. Grazie a questo successo i biancorossi conquistano il secondo posto e playoff promozione per il secondo anno consecutivo. Bella vittoria anche della formazione Under 14 che ha vinto contro il Cecina 36-19 e bene anche la formazione femminile che ha disputato l'ottava giornata di Coppa Italia, riuscendo a conquistare il terzo posto grazie alle vittorie contro Gispi Prato e Gambassi.